Arresti domiciliari per il sindaco di Trebisacce Francesco Mundo, raggiunto da un'ordinanza nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla procura di Castrovillari, nella quale sono indagate complessivamente 18 persone. Mundo è accusato di irregolarità nella raccolta delle firme per la presentazione della lista Io resto in Calabria, nella quale era candidato al Consiglio regionale in occasioni delle elezioni del 2020. Nel corso dell'operazione denominata Major, due dipendenti del Comune sono stati sospesi dall'esercizio del pubblico ufficio per tre e sei mesi. Gli indagati sono accusati tra l'altro di peculato, concussione, falsità ideologica in atto pubblico e formazione di schede e atti per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali destinati alle operazioni elettorali. L'inchiesta, coordinata dal PM di Castrovilla di Primicerio, è partita dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza nell'ambito della procedura di gara relativa all'aggiudicazione del contratto di concessione, di progettazione, costruzione e gestione dell'autostazione di Trebisacce. Dai controlli sarebbero emerse irregolarità nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie a raggiungere il quorum per la presentazione della lista circoscrizionale Io resto in Calabria, circoscrizione Nord, a sostegno di Pippo Callipo, presidente, in occasione delle regionali del 28 gennaio 2020. Mundo si sarebbe adoperato per reperire un maggior numero possibile di sottoscrizioni, raccogliendo senza la presenza del pubblico ufficiale autenticante oltre 200 sottoscrizioni di elettori e impiegando solo in un secondo momento un dipendente dell'ufficio elettorale del Comune per una fittizia autenticazione. Ciò avrebbe consentito di raggiungere il quorum necessario. Nel corso delle indagini sono emersi anche indizi nei confronti di Mundo per una vicenda concursiva. Il sindaco infatti per favorire un privato che occupava abusivamente una porzione demaniale del torrente Pagliara di Trebisacce, abusando della sua qualità, avrebbe costretto il direttore dei lavori a deviare il tracciato rispetto a quello previsto, minacciandolo fra l'altro che se non lo avesse fatto avrebbe bloccato con ordinanza i lavori.